Nell'attesa di capire se dal governo arriveranno nuove restrizioni che allontaneranno la zona gialla dall'Abruzzo, a lungo inseguita da metà dicembre, a preoccupare la situazione all'interno delle RSA dove i contagi sono in aumento. Dopo Avezzano e la Marsica, ora il Chietino ad essere nella bufera. C'è apprezzione per il focolaio di Ortona che rivive i fantasmi di marzo quando Caldari fu zona rossa. Sono 60 i contagiati alla casa di riposo Tommaso Berardi tra ospiti e personale e si lavora per garantire la continuità dell'assistenza agli anziani. Fino ad ora ci sono stati tre morti ed un paziente in gravi condizioni. Inoltre ci sono 17 positivi a Guardia Grele all'interno dell'ex ospedale, ora riconvertito in PTA e residenza per anziani e 21 nella residenza per anziani di Casoli. I pazienti positivi sono stati tutti isolati spiega il sindaco di Guardia Grele Donatello Di Prinzio che rassicura sul funzionamento del punto di primo intervento. A Casoli invece i pazienti positivi sono stati trasferiti all'interno della clinica Spatocco e nell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti. Sempre a Casoli c'è un'altra RSA ora destinata soltanto a positivi con 20 posti letto. Qui saranno accolti anche i positivi di altre case di riposo del circondario.